In occasione della terza giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, giovedì 7 febbraio è andato in scena nel Salone Polivalente di Aglie lo spettacolo di Simone Cutri Avrei soltanto voluto, con il blogger e attore Edoardo Mecca nel ruolo di protagonista. Abbiamo deciso di portare in scena uno spettacolo su cyberbullismo, di portarlo ai ragazzi proprio per poter interagire con loro su una realtà che vivono quotidianamente in un'era digitale in cui loro sono nati e cresciuti. Ed è una grande lezione sia per noi che facciamo lo spettacolo e per tutti quelli che sono vicini ai ragazzi. E poi è bello vedere il loro interesse e la loro voglia di partecipare ad una tematica così importante. La pièce era rivolta in primo luogo agli studenti delle scuole secondarie inferiori di Aglie e di Castellamonte, ma era aperta a tutta la cittadinanza. A portare i saluti della città metropolitana, la consigliera delegata all'istruzione Barbara Zara. La giornata nazionale, ricordiamo, è il 7 di febbraio. È una giornata importante perché si pone l'attenzione su un tema che è all'ordine del giorno per i nostri giovani. E in particolare quest'anno la città metropolitana ha deciso di essere qui, ad Aglie, nel Canavese, su un territorio che non è la città di Torino, proprio per poter disseminare su tutto il territorio. Ogni anno faremo un'esperienza in una località diversa della città metropolitana. Si tratta di una proposta che, insieme ad altre sullo stesso tema, fa parte del catalogo del Centro Servizi Didattici, CESEDI, della città metropolitana di Torino.